Sindaco, allora il post bomba sta regalando retroscena inimmaginabili, i complottisti, se ne stanno sentendo di tutti i colori? Beh, chi va a fare speculazione su queste cose sono metti piccolini così, onestamente. Cantava Rossini, la calunnia è un venticello sottile che si insinua tra la gente. Se io ho sentito anche l'interrogazione orale di ieri che insinuava che fossimo a conoscenza già dal giorno prima della presenza della bomba, ho avuto modo di dire che è una bufala colossale. Mi dispiace che ci si presti a queste piccole cose, anche se nella politica uno deve cercare sempre di sminuire gli altri, ma alcune volte si fa anche bella figura a dire avete fatto un buon lavoro. Però c'è un aspetto, oggi ripensandoci, a parte che mi ha offeso questa cosa, perché è una calunnia, diventa dare delle persone non serie, un sindaco, un prefetto, le forze dell'ordine che nascondano la presenza di un ordigno di quella portata, ma neanche uno neanche dovrebbe sfiorargli il pensiero, ma io penso che non gli abbia neanche sfiorato il pensiero che questa cosa sia un po' un giochetto. Però non si può sempre scherzare su queste cose, perché c'è anche un senso di responsabilità e non ci si può permettere sempre di denigrare gli altri. E allora adesso io pretendo come sindaco che il consigliere che ha fatto l'interrogazione riveli, non pubblicamente ovviamente, ma siccome ha fatto riferimento ad una fonte attendibile, seria ed attendibile, quindi che ci dica chi è questa persona, perché poi noi dobbiamo tutelare anche la serietà, l'immagine di un'amministrazione, non di una di più amministrazioni. Se questa persona non esiste sarebbe ancora più grave, perché significa che uno se le inventa queste cose. È ora di dare peso alle cose, perché bisogna rispettare, quando si svolgono dei ruoli, specialmente di rappresentanza, non si può scherzare e non si può sempre denigrare, calunniare, insinuare cose che poi possono prestare anche preoccupazione tra la gente. Visto che ci sono, ricolgo l'occasione per ringraziare veramente tutti coloro che hanno fatto un lavoro straordinario in una situazione di emergenza imprevista e che veramente hanno fatto un ottimo lavoro. Devo dire, lo riporto anche pubblicamente, oggi attraverso il prefetto abbiamo ricevuto anche ringraziamento e le congratulazioni del capo della protezione civile Borelli e questo ovviamente ci ha fatto anche piacere.